è una canzone che mi piace molto è un testo che mi piace molto e quindi mi piace molto la frase un per cento di amore tutto il resto e stringere i denti anche se è un po è un po estrema come 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 percentuale come statistica in realtà personalmente non mi ci riconosco in queste in queste proporzioni però è una frase che mi che mi piace è nato nella mia testa senza senza uno strumento particolare da lì poi ci ho lavorato sul piano sulla chitarra come a volte mi succede spostandomi da uno strumento all'altro c'è una parte di chitarra molto importante per me che quando attacca tutta l'orchestra e c'è questo questa specie di arpeggio che sicuramente discende e molto legato alla allo strumento con cui lo suono la e negli in store mi piacerebbe poter suonare anche qualcosa ma molto dipenderà anche dalle dalle condizioni delle delle feltrinelli che non che non conosco caso per caso e come sappiamo ci sono tutta una serie di restrizioni legate alla alla pandemia e quindi spero di poter suonare non lo dò per scontato ma spero che in ogni caso possa essere questi incontri possono essere un'occasione di di chiacchiera con con chi sarà interessato io penso ci sono un sacco di cantautori al festival di di sanremo quest'anno quindi in realtà non non è penso che il premio della critica è una cosa bella come come qualsiasi altro riconoscimento e mi fa piacere che che si dica un po per scaramanzia sono contentissimo quando lo si dice però è una cosa che mi fa piacere che comunque mi sembra un attestato di di stima riconoscimento che abbiamo fatto un buon lavoro con questa con questa canzone ma l'importante per me è attraversare questa settimana facendo il migliore racconto possibile di me e di quello che ho fatto in questi anni di lavoro grazie a tutti